La questione della riserva del fiume Vera Tempera infiamma i animi in realtà già da un po', ma il Consiglio Comunale ora sancito che la gestione di fatto esclude l'ASBUC. Il Comitato di Gestione passa da tre a cinque componenti, con due membri individuati tra i cittadini di Tempera con competenze specifiche. Maggioranza soddisfatta con il Presidente della Commissione Gestione Territorio, Guglielmo Santella, ma ci sono consensi anche da parte dell'opposizione, perché l'emendamento è stato firmato anche dai consiglieri Romano e Rotellini. La faccenda però non va giù al gruppo del passo possibile. Già da una prima lettura della delibera avevamo nutrito forti dubbi. Nel momento in cui si aumentava da tre a cinque i componenti del Comitato di Gestione, nel momento in cui giustamente venivano inclusi delle figure particolarmente qualificate del Comune, degli uffici comunali e degli enti, riteniamo che per quanto riguardava le due posizioni queste venivano duplicate in un'unica figura, e quindi escludendo l'ASBUC di riferimento territoriale. Non lo diciamo certo noi del passo possibile. Buonsenza avrebbe voluto riferirsi a quello che è il dettato normativo, la legge numero 7 del 2012, che prevede che l'ASBUC possa persino sostituirsi all'intero Comitato di Gestione. Quindi a maggior ragione verrebbe da chiedersi, nel momento in cui debbono essere trovate e riferirsi a delle persone che quel territorio lo conoscono, noi lo conoscono a mena dito, ne conoscono il respiro, è impossibile non prendere in considerazione i rappresentanti dell'ASBUC né come rappresentanti e addirittura anche di poter persino partecipare al processo decisionale che andrà a individuare appunto quei componenti del Comitato di Gestione.